C'è stata questa serie di volumetti che abbiamo fatto sui 12 articoli fondamentali della nostra Costituzione, quello dei principi fondamentali, i primi 12. Io ho fatto l'articolo 11 perché mi occupo di relazioni internazionali e la guerra è il mio tema e l'articolo 11 è quello che dichiarò in modo straordinariamente suggestivo, direi affascinante, il principio del ripudio della guerra. La Costituzione italiana, e stiamo parlando naturalmente di fatti successi tra il fine del 1945, il 1946 e il 1948, quando entra in vigore il primo gennaio, l'articolo 11 della Costituzione è, come anche gli altri, un gioiello di civiltà giuridica. L'Italia ripudia la guerra come mezzo di soluzione delle controversie internazionali e accetta, adesso la prima parte è testuale, il resto non me lo ricordo perfettamente ma dice che l'Italia consente a forme di collaborazione internazionale che sono poi quelle che portano per un verso per l'Europa al patto atlantico e alla Nato che vengono fuori dalla guerra e poi ci sarà naturalmente l'ONU e tutte queste cose. La cosa importante è che l'Italia, è quello che rende un po' l'utilità di questo mio saggetto, sono tutti libretti di cento pagine, questi qui sulla Costituzione, la cosa importante è che purtroppo l'Italia ha scritto, ha votato questo grande testo, ma lo ha sempre calpestato, l'Italia ha partecipato a una quantità di imprese militari internazionali che vanno da De Gasperi a D'Alema, da D'Alema a Berlusconi, insomma ci sono passati tutti che hanno violato l'articolo 11 della Costituzione che noi continuiamo a dire essere questo straordinario e civilissimo documento giuridico. Intanto è una semplice dichiarazione senza intenti, potremmo dire, perché in realtà tutte le missioni militari a cui invia Nato, invia anche Caschi Blu dell'ONU, l'Italia partecipa, sarebbero tutte proibite dalla Costituzione italiana. Naturalmente come si fa in Parlamento quando si devono aggirare queste cose, si dice che non si tratta di operazioni militari ma che noi mandiamo degli istruttori per la polizia, per le attività civili della vita militare e mai soldati di quelli che devono anche sparare. Io con questo non voglio dire che non si possa mai sparare, il problema è più grosso, insomma. Ma il rapporto tra l'articolo 11 e la produzione giuridico-politica italiana è uno scontro continuo.